La febbre dei luoghi perduti mi prese in Grecia. Fatto sta che da allora non ebbi pace e cominciai a cercare. Ricordare che cosa faceva tuo padre lì. Le parole non dette rimangono attaccate ai muri, non più abitati dallo sguardo degli uomini. Quanto parte a casa, quanto parte a casa. C'è qualcuno? C'è qualcuno? Ehi là, dove siete? C'è qualcuno? Ehi, dove siete. Grazie a tutti.